salve a tutti mi chiamo andrea de luca sono istruttore di fitness e bodybuilding volevo annunciarvi la creazione di un nuovo canale fitness workout hd affronteremo diverse tematiche andremo a parlare degli allenamenti nello specifico essendo anche il preparatore di un team affronteremo anche la preparazione agonistica di alcuni atleti dal menfisic allo juniores evitando di fare gli errori più comuni parleremo di diverse supplementazioni parleremo di diverse intensità d'allenamento da adottare approcciare in base alle diverse strutture scheletriche ai diversi parametri fisici seguitici fateci sapere se vi piace il nostro canale con un pollice all'insù se non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale ciao alla prossima